Ciao a tutti! Oggi scopriamo la Lombardia. La parola Lombardia deriva da Longobardia, cioè terra occupata dai Longobardi. I Longobardi erano una popolazione barbarica, che occupavano buona parte della penisola italica. La Lombardia è una regione dell'Italia settentrionale. Essa confina a nord con la Svizzera, a est con il Trentino Alto Adige e il Veneto, a sud con l'Emilia-Romagna e a ovest con il Piemonte. La Lombardia presenta paesaggi diversi, alte montagne, colline dolci e una vasta pianura. La parte settentrionale è occupata dalle Alpi-Le Pontine, Retiche e Orobie. Le cime più elevate sono il Pizzo Bernina, con i suoi 4.049 metri, l'Hortless, alto 3.905 metri, il Monte Disgrazia, alto 3.678 metri. Sempre a nord si stendono due valli di origine glaciale, la Val Tellina e la Val Camonica. Più a sud, nella fascia delle Prealpi, troviamo la Val Brimbana, la Val Seriana e la Val Trompia. Nella fascia prealpina troviamo anche grandi laghi come il Lago di Garda, il più grande d'Italia, il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago di Zeo, il Lago di Lucano. Dalle Colline si passa poi alla Pianura Padana e si suddivide in alta e bassa pianura. L'alta pianura è ai piedi delle Prealpi, è formata da terreno asciutto, ghiaioso, permeabile, ovvero che lascia scivolare facilmente l'acqua in profondità e per questo non è favorevole all'agricoltura. La bassa pianura è quella vicino al fiume Po, è fertile ed è formata da terreno argilloso ed impermeabile, ovvero che trattiene l'acqua facilmente coltivabile. In mezzo ci sono le risorgive che sono sorgenti d'acqua dolce che scorrono nel sottosuolo e risalgono quando trovano terreni alluvionali come la pianura Padano-Veneta. Il Po è il fiume più importante che percorre la pianura Lombarda da ovest a est. Il Po riceve le acque da numerosi fiumi fra cui il Ticino l'Adda il Serio l'Oglio il Mincio Il clima è alpino sui rilievi con inverni rigidi ed estati fresche. È temperato e mite attorno ai laghi mentre in pianura il clima è continentale con estati calde e affose e inverni freddi e nebbiosi. La Lombardia è la regione più popolata d'Italia. La popolazione si concentra nelle aree industrializzate di Milano, Brescia, Monza, Varese, Como, Bergamo. La Rosa Camona è il simbolo della regione Lombardia. È una delle più famose incisioni rupestri della Val Camonica, risalenti all'età del Ferro, epoca in cui la valle era abitata dai Camoni. Milano è il capoluogo della Lombardia. Il nome Milano deriva dal latino Mediolanum. Secondo alcuni significa paese in mezzo alla pianura e secondo altri lana in mezzo. Il simbolo di Milano è il Duomo. Ricordiamo inoltre il Palazzo Sforzesco, il Teatro alla Scala. Le altre città di provincia sono Cremona, Mantua, Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Como, Varese, Monza e Brianza, Lodi, Bavia. La Lombardia è tra le regioni più ricche d'Italia. L'agricoltura si concentra nella bassa pianura vicino al Po. Si coltivano cereali, ortaggi e frutta. L'allevamento di suini e bovini è molto diffuso. La Lombardia ha il più alto livello di produzione industriale d'Italia grazie alla sua posizione centrale e alla rete di trasporti ben sviluppata. Il commercio e la finanza occupano un ruolo centrale nell'economia. A Milano si trova infatti la sede della Borsa italiana. Si concentrano inoltre le attività di editoria, moda, pubblicità e innovazione digitale. Inoltre è ben sviluppata la rete autostradale e la presenza di due importanti aeroporti. Festa degli Obei Obei si svolge a Milano il 7 dicembre il giorno di Sant'Ambrogio patrono della città. Si chiama Fiera degli Obei Obei perché si riferisce alle esclamazioni di gioia dei bambini vedendo i doni ovvero O belli O belli e per finire andiamo in cucina per scoprire i piatti tipici della Lombardia. I primi piatti sono risotto alla milanese i pizzoccheri e i casoncelli bergamaschi. I secondi piatti sono cottoletta alla milanese l'osso buco e la cassola. E per finire vediamo alcuni dolci tipici della Lombardia. Sono Pan de May il panettone e la sbrisolona mantovana. Grazie per aver visto questo video e per non dimenticarmi iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace attivate la campanella per ricevere un po' di notifiche commentate condividete e seguici